Siamo nati nel 2007 per raccogliere l'esperienza e la capacità di produzione di oltre 4.000 piccole e medie imprese del nostro territorio. Oggi la nostra cooperativa è tra le più importanti unità nel settore ortofrutta e vino. In questo stabilimento lavoriamo la frutta che arriva da diverse zone di produzione. Adesso stiamo selezionando le susine, vengono prima pesate, selezionate in base alla loro qualità e poi confezionate per la vendita. Il mercato è cambiato molto in questi ultimi anni. I nostri clienti ci chiedono sempre maggiore qualità, cercano frutti più gustosi, delle giuste dimensioni e senza imperfezioni. Per noi rimanere al passo delle loro richieste è fondamentale. Quando abbiamo capito che un ciclo tecnologico si stava chiudendo abbiamo proposto ad Agriintesa di fare un salto di qualità puntando sull'intelligenza artificiale. Nel 2017 abbiamo inserito nel processo produttivo due nuovi macchinari dedicati alla selezione di kiwi e susine. Il loro sistema di riconoscimento visivo scansiona, riconosce e suddivide i frutti in base alle caratteristiche richieste dal cliente. Tutto avviene in automatico. Con il machine learning poi più lo strumento viene utilizzato più diventa competente migliorando le sue capacità di analisi. Grazie ai nuovi macchinari si sono ridotte le contestazioni sulla qualità del prodotto da parte dei nostri clienti e il processo è diventato più rapido ed efficiente. Applicando l'intelligenza artificiale alla lavorazione dei nostri prodotti contiamo di aumentare la marginalità del 10% in due anni. Un modo per tenere l'azienda sempre al passo con le sfide del mercato.